Garsia, Garsia spazio, prova la conclusione che sbatte sulla trave Paiva prova tutto solo, Paiva Paiva, Paiva, Paiva attenzione perché Nicoletti, Paiva prova ad andare via, prova Garsia, Paiva, Paiva tutto solo, Paiva era riuscito ad entrare molto bene in area di riguardo, entrare anche Massimo Tattaranni parte ora la conclusione di Nicolas Barbieri, ora Garsia due contro due, Bertolucci, Bertolucci prova tutto solo in mezzo per Garsia che ha provato, Barbieri, ancora il giorno ne va a dare il tiro sette secondi per concludere, qui un tiro accompagnato di Barbieri alla ricerca Bertolucci ancora, prova un tiro in girata a sorprendere, avanti Bertolucci Bertolucci, finta il tiro, parte ora, finisce di poco a lato questo tiro Nicoletti, prova dalla distanza, Nicoletti in mezzo per Tattaranni che non riesce Nicoletti chiama il blocco, Carlo Bertinato, Tattaranni, Tattaranni, Tattaranni Tattaranni ha provato una, ancora correggio, Posito, Posito prova ad andare via accompagnata di Posito che sbaccia la, Cosimo Matugini Farisa, Farisa prova con un nulla, all'ottavo posto in classifica, quota 35 punti Ricordiamo, attenzione perché Farisa era riuscito a... Garsia qui, attenzione, due contro uno Montebello, Bertinato, Bertinato parte il tiro Trovava preparato Big Elez, ed è ancora il connazionale Cescampo, ora dire di no Matugini, attenzione, la rete, la rete, sblocca le marcature dopo tre minuti di questo avvio di secondo tempo, il... Ancora ottima la risposta del numero uno e di Nicoletti Attenzione qui, il... Ancora avanti, attenzione, Tattaranni, uno contro uno, Tattaranni, Tattaranni Non riesce ancora Massimo Tattaranni a superare la decima della classifica Attenzione Farisa, riesce ancora Michelez a respingere e a recuperare palina per i suoi Nicoletti, ancora Michelez, prova il tiro Michelez dalla diagonale Campor, quattro contro tre, correggio, Barbieri, Bertolucci, in mezzo per Barbieri Ottima qui la risposta di... Non riesce, scusate, Bertolucci non riesce a superare Avanti Farisa, Farisa, Farisa! Grandi Spagnato sul primo pallo, non riesce a sorprendere ancora Cescampo Ancora Montebello, Michelez, Michelez, parte il tiro ed è ancora rosso Diego Nicoletti, esce intanto proprio Cino Michelez Rientra in pista il Matarano, Massimo Tattaranni, la rete La rete, la rete, la rete! Di Nuno Paiva che trova così il pareggio quando mancano 9-30 Qui Barbieri recupera ora palina ma la butta via Paiva, Paiva, Paiva con un numero Non riesce a deviare con il casco di Nicoletti, riparte Nuno Paiva Nuno Paiva prova il tiro ed è il palo E la pallina che smogersia E dunque finisce qui la sfida tra TR Chimica e BDL Correggio sul risultato Ciao! Grazie a tutti